Allora, go, go, go! Ma non sono venuti a ballare, eh? Eh? Wow, filmate con i miei amici di Peccara, vai! Ma scusa, ma... Non so che non si può filmare, vieni! Non si potrebbe... Questo è il... è il... Il casino più vecchio dell'As Vegas, cioè uno dei primi. E se sopra troverete anche i ventilatori come una volta. Quello spettacolino. Ok, vai. Qui si gioca, ragazzi. Attenzione, eh... Con sopra dei televisori, in altra definizione, dove stanno potendo venire il campionato di NFL. In cui già siamo in Washington contro New York Giants. Va bene, ciao! Ma guarda, non si vede la serie di...